L'associazione Upupa è nata dieci anni fa a Parrano, ma in realtà era nata molto prima per iniziativa di un gruppo di ragazzi della Legambiente che appunto fecero l'associazione Arci Legambiente Upupa. Poi dieci anni fa fu costituita formalmente e da allora ha sviluppato molte iniziative. Quella più importante sicuramente è stato il progetto per il centro di documentazione territoriale fatto proprio dal comune e poi finanziato dalla regione dell'Umbria. Ha gestito per anni le visite alle tane del diavolo e soprattutto ha promosso moltissime iniziative e ancora oggi gestisce la casa del popolo di Parrano e ha in animo di realizzare molte ed importanti iniziative. È un'iniziativa volta a promuovere non solo il paese di Parrano, ma anche soprattutto il volontariato e il protagonismo di giovani di questo paese. Per questo ha rinnovato recentemente i propri organi e ha inserito nel proprio consiglio di amministrazione la gran parte dei giovani del nostro paese.